La situazione meteorologica sulla nostra regione è sempre governata da un'alta pressione che interessa tutto il Mediterraneo centrale, insisto ormai da diverse settimane e lo farà ancora per alcuni giorni. Sabato prevediamo cielo in genere variabile su pianure costa, segnatamente sulla bassa e sulla costa dove a qualche nebbia notturna potrà far seguito qualche nube bassa. Sull'alta pianura in montagna cielo prevalentemente poco nuvoloso per velatura d'alta quota. Relativamente freddo a Fondovalle e in pianura con delle gelate notturne, temperature minimi intorno ai 5-6 gradi invece sulla costa, le massime saliranno intorno ai 9-10 gradi sia a Fondovalle che sulla costa. In quota in montagna invece avremo inversione termica quindi temperature piuttosto miti e zero termico intorno ai 2600 metri circa. Domenica prevediamo ancora nebbie notturne, qualcuno potrà insistere anche durante la giornata segnatamente su bassa pianura verso la costa. In generale comunque su pianura e costa cielo in genere da variabile a nuvoloso e con aumento di umidità quindi nei bassi strati. Tempo bello invece con cielo sereno in montagna salvo inversioni termiche a Fondovalle con temperature quindi ben più basse al mattino a Fondovalle che in quota. Le temperature minime saranno in lieve aumento, per quanto riguarda pianura e costa le masse vengono stazionare intorno ai 10 gradi circa. Tempo simile anche lunedì martedì, forse con maggior nuvolosità e qualche più vigile segnatamente su pianura e costa. Dallo sottolineamento dell'ARPA Arturo Pucillo vi saluta.